È giusto vivere una vita segnata dalla violenza, dalla sofferenza? È giusto che un bambino cresca tra l'odio, il rancore, la rabbia, la distruzione? È giusto che un uomo debba sentirsi impotente, incapace di proteggere chi ama? È giusto che un essere umano debba decidere della vita o la morte di un altro? È giusto che degli innocenti siano usati per giochi politici? Bentornati ragazzi nel nostro lungo viaggio verso il One Piece. Io sono Toski e oggi insieme analizziamo il capitolo 1095. La situazione a Egghead è critica. Luffy è momentaneamente fuori dai giochi, Zoro è occupato con Lucci. I pacifissi sono nelle mani della marina e la stessa marina circonda l'isola del futuro. Siamo nel momento più basso, nel punto di massima criticità per i protagonisti. In poche parole, quello in cui il lettore avverte il pericolo inizia a pensare e ora come escono da questa situazione. Sanji, Frankie, Bonnie e Vegapunk devono vedersela con Saturn, che è un vero e proprio mostro. Ragazzi, non bisogna sottovalutare i cinque astri di saggezza, che sono probabilmente a un livello altissimo, stiamo lì lì con gli imperatori. Al momento è molto difficile quantificare la loro forza, però c'è Sanji lì, che è un personaggio forte, anzi, molto forte, e non riesce neanche ad alzarsi, ad avvicinarsi all'astro. Ma quali sono i poteri di Saturn? Vediamo cosa ci dice il capitolo. Praticamente riesce a colpire a distanza, emanando una sorta di forza dagli occhi. L'avevamo visto già nel capitolo 1094 e pensavamo fosse Aki, magari concentrato in un solo punto. Invece, stando a quanto dice Vegapunk, pare trattarsi delle abilità del suo frutto. Ma non solo, riesce anche a immobilizzare i suoi avversari. Quindi praticamente questo frutto del diavolo, oltre a dargli la possibilità di trasformarsi in quest'essere, che ricordiamo dovrebbe trattarsi dello yokai Ushi Oni, gli permette anche di creare una sorta di forza invisibile in grado di colpire e fermare gli avversari. E poi c'è una questione ancora più importante, quella della rigenerazione. La ferita di Bonnie, infatti, scompare non appena l'astro estrae la spada dal proprio petto. Per ricapitolare, trasformazione, forza invisibile, rigenerazione. Non pare affatto male come frutto del diavolo. Questi poteri permettono a Saturn di avere il totale controllo della situazione. Bello come lui si prenda tutto il tempo che vuole, ma nello stesso momento rimprovera a Kizaru di essere stato troppo lento. E veniamo proprio all'ammiraglio. Com'è che era quella storia su Luffy Gear 5th impotente, sopravvalutato, incapace di imbattere un ammiraglio? Praticamente, Cappello di Pai ha tenuto impegnato Kizaru fin quando voleva. Poi, nel momento decisivo, quando ha scelto di metterlo KO, lo ha fatto con un pugno. Si tratta di una grandissima prova di forza di Luffy. Gli ammiragli sono esseri potentissimi. Forse, al netto di quello che è successo a Marineford, non abbiamo mai visto un ammiraglio finire al tappeto così velocemente. A livello narrativo, comunque, è palese che la scelta di Oda sia dovuta al fatto di tenere da parte i due personaggi per alcuni minuti, in modo da potersi dedicare anche ad altro. Oda non vuole in questo momento un Saturn vs Nika. In più, la presenza di un Luffy, vispo, bello fresco, non gli avrebbe permesso di mostrarci appieno le capacità dell'astro. Mi spiego meglio. In questo momento della storia, Oda è un po' incastrato con Luffy. Il protagonista ha raggiunto un livello così alto che non può essere vittima di alcune situazioni come accadeva invece nelle saghe passate. In quasi ogni arco narrativo, Luffy viene prima sconfitto dal cattivo, pensate a Wano quante volte accade, per poi ritornare nel finale e ottenere la vittoria. La prima sconfitta del protagonista serve proprio a creare quel punto di massima criticità di cui vi parlavo prima. La storia tocca il fondo e poi risale fino al punto più alto che sancisce la liberazione dal nemico. In questo momento, invece, l'unica possibilità che ha Oda di mettere da parte Ruffy è appunto l'effetto collaterale del Gear 5th. L'effetto collaterale, infatti, serve proprio a indebolire Cappello di Paia, non renderlo già superiore a tutti. Sebbene abbia raggiunto un livello altissimo, il protagonista sta ancora svolgendo il suo viaggio dell'eroe, e quindi sta ancora subendo un processo di crescita. Oda ha bisogno di quei momenti all'interno della storia in cui Ruffy non è momentaneamente disponibile in grado di risolvere la situazione. Ma lasciamo perdere questo discorso, facciamo un passo indietro e arriviamo al momento clou del capitolo. Le parole di Bonnie a Saturn ci danno la possibilità di scoprire la storia di Orso Bartolomeo. L'ho aspettata, l'ho desiderata tantissimo, per quanto mi riguarda era il momento più atteso di questo arco narrativo. Ero certo che questo passato, oltre a essere ovviamente tristissimo, fosse anche importantissimo per la storia generale di One Piece. Teorizzavamo che l'isola in cui avevamo visto Orso nei suoi ricordi attraverso Bonnie nel capitolo 1074 fosse God Valley, ma che addirittura quest'isola fosse il teatro principale degli eventi del flashback, devo essere sincero, non me l'aspettavo. Ed è bellissimo. Ma andiamo con ordine, altrimenti mi eccito troppo facilmente e finisce tutto nel giro di 30 secondi. Orso Bartolomeo nasce 47 anni fa sull'isola di Sorbet. La sua famiglia è composta da persone comuni, nessun titolo nobiliare. Ma suo padre, che tra l'altro è bellissimo con una faccia da brava persona, appartiene alla razza estinta, quasi estinta, dei Bucanieri. La domanda adesso è, chi sono i Bucanieri? Pare, a quanto detto, che siano degli umani superforti, perché in loro scorre il sangue dei giganti. Magari possiamo considerarli mezzi uomini e mezzi giganti, chi lo sa. Tra l'altro in One Piece di esseri mezzi giganti ce ne sono tantissimi, guardate Big Mom per esempio. Eppure per lei non si è mai parlato di Bucanieri. E proprio a proposito della mammona sappiamo finalmente quali sono le tre razze che mancavano da Totoland. I giganti, i lunariani e appunto i Bucanieri. Questa razza, stando alle parole di Saturn, ha commesso un grave crimine. Qual è adesso questo crimine? Ne parliamo alla fine, perché ho una mezza idea. Andiamo avanti con il flashback. Orso nasce sorridente, felice di essere venuto al mondo. Ma purtroppo, all'interno dell'ospedale del regno di Sorbet, ci sono delle infiltrazioni del governo. E attraverso le analisi del sangue del bambino, si scopre della loro razza. Il governo non perde tempo e cattura tutta la famiglia. Perché lo fa? Essenzialmente per due motivi. Il primo è che si tratta di superuomini. E vuoi che il governo perda l'occasione di usare un superuomo? Il secondo è che questa razza in passato ha commesso, come dicevamo, un grave crimine. E quindi è costretta a pagare per l'eternità. Ciò ci fa anche capire che questo grave crimine è stato commesso nei confronti del governo mondiale. La famiglia di Orso così diviene schiava dei draghi celesti. Dalla felicità, sicurezza, gioia del nucleo familiare, si passa all'orrore. Alla vita che non vale la pena vivere. In poche vignette, forse anche un po' veloci, Oda ci mostra ancora una volta tutta la crudeltà degli dèi. La sofferenza, la disperazione viene fuori da ogni vignetta. Quella vita è un incubo. Sei solo un oggetto nelle mani di bambini che ti usano a loro piacimento. Non puoi parlare, non puoi ballare, non puoi sorridere, non puoi piangere, non puoi soffrire. Devi annullare la tua umanità. I tuoi sentimenti, le tue sensazioni, i tuoi bisogni non esistono più. Non sei un uomo. Non hai più nome e cognome. Non sei nessuno. È finito. Tutto. Molte volte dico che il mondo di One Piece funziona così tanto che mi piace considerarlo una sorta di realtà parallela in cui succedono queste cose che leggiamo nel manga. Questa volta utilizziamo un approccio diverso. Non considerate One Piece un altro mondo, ma pensate che sia il nostro. Immaginate che ciò che avete letto di Orso stia succedendo proprio qui, un po' distante da noi. Lo state immaginando? Beh, pensate invece che non è soltanto immaginazione. Esiste davvero. Sta accadendo da qualche parte in questo momento sul serio. E queste cose sono davvero legatissime al nostro mondo. Orso perde i propri genitori per delle ingiustizie senza avere alcuna colpa e situazioni del genere le vediamo ogni giorno nella nostra realtà. Sembra assurdo dirlo, ma a differenza nostra i personaggi di One Piece però hanno una speranza. Ed è quello che Clap, così dovrebbe chiamarsi, il padre di Orso, dice a suo figlio. Continua a voler vivere perché un giorno arriverà Nika, il dio del sole, e ci renderà liberi con il suo sorriso e il suo ballo al ritmo dei tamburi. Queste parole restano ben impresse nella mente di Orso, che un giorno le racconterà sua figlia e i due balleranno insieme nell'attesa di Nika. Ciò che Orso ascolta da suo padre condizionerà per sempre la sua vita. Voglio diventare un liberatore, un eroe, proprio come Nika. Chissà, magari possiamo considerare questo come il sogno di Orso Bartolomeo. Prima di continuare con il flashback, una piccola parentesi. Sebbene io abbia creduto per capitoli che Orso stesse andando a Mary Joyce, ormai sono convinto che la sua destinazione finale sarà Egghead. Uno, perché c'è bisogno di un intervento esterno per ribaltare la situazione sull'isola. Poi c'è Bonnie e mi piacerebbe vedere un ultimo abbraccio tra padre e figlia. E infine abbiamo appena scoperto che Orso è legato a Nika. Per me Orso arriverà a Egghead per trovarsi di fronte al dio del sole e capire, prima di morire, che le parole di suo padre sono diventate realtà. Che la speranza degli schiavi sta per realizzarsi. Mi immagino un finale di Egghead con Orso che si sacrifica per gli altri, in modo da essere comunque ricordato come un eroe e quindi raggiungere il suo scopo, il suo sogno. E non mi sorprenderei se il fatto di essere diventato un cyborg sia in qualche modo legato a questo obiettivo. Qualcuno ovviamente si chiederà, ma come farà Orso a fare tutte queste cose se ha perso la coscienza? Durante Egghead ci è stato mostrato un flashback molto interessante. C'erano Orso e Vegapunk. I due parlano del peso dell'anima. E noi sappiamo che l'anima nel mondo di One Piece esiste, Brooke ne è l'esempio primario. L'ho detto già in uno degli ultimi video, puoi magari eliminare la coscienza da una persona, ma non è detto che tu riesca a privarla della sua anima. Orso, forse, agisce proprio seguendo la sua anima, ciò che gli è rimasto dentro. Torniamo ora al flashback. Quando l'ho letto sono praticamente impazzito. 38 anni fa a God Valley. Sì, si tratta proprio di quell'anno lì. L'anno dell'incidente, dello scontro tra Roger e Garp da una parte e i Rox dall'altra. Praticamente ogni tre anni i draghi celesti tengono un gioco spietato. Scelgono un'isola non governativa e vanno a caccia. Uccidono gli umani per divertimento e decretano un campione. Un po' all'Hunger Games. Anche questa cosa non è poi tanto lontana dal nostro mondo. In epoche diverse dalla nostra, quando la vita umana non aveva troppo valore, non che oggi ne abbia così tanto, lo sport principale era quello di vedere schiavi ammazzarsi tra di loro. Ci chiedevamo cosa facessero i draghi celesti a Mary Joyce? Se si annoiassero, è arrivata la risposta. E devo ammetterlo, sono molto contento. Già in passato ho detto più volte che mi sarebbe piaciuto scoprire qualcosa in più sul loro mondo. Perché ragazzi, quella dei draghi celesti è un po' un'altra realtà. In One Piece c'è la Terra, dove ci sono delle regole. E poi c'è Mary Joyce, dove succede tutt'altro. Si tratta di una sorta di Monti Olimpo con la vita degli dèi, che si svolge in maniera totalmente diversa. Quindi sapere qualcosa in più su di loro, sulla loro società, su come si comportano, su cosa fanno, non mi dispiace affatto. Ma torniamo al nome dell'isola, perché si chiama God Valley? Praticamente, da quel che ho capito, è un nome che i cittadini del luogo si sono auto-assegnati. Si trattava di un'isola con tante materie prime, quindi probabilmente ricca, e la chiamavano semplicemente Valle degli Dèi. E i draghi celesti si sono anche un pochino offesi. Come osate chiamarvi dèi? E quindi li hanno distrutti e si sono appropriati dell'isola. Quest'anno, il favorito numero uno alla vittoria del gioco, che poi sicuramente vincerà, è un certo Figerland Garling. Un ragazzo bellissimo che somiglia a Shakes e che molto probabilmente è suo padre. Si tratta dello stesso uomo che abbiamo visto da vecchio, con capelli e barba da mezzaluna, e che ricopre il ruolo di capo supremo dei Cavalieri Celesti. Mentre nel flashback è semplicemente un Cavaliere Celeste, uno dei membri. Il capitolo termina con Orso che viene ricatturato e trova dinanzi a sé Ivankov, bellissimo, e una bambina, Ginny, molto probabilmente la mamma di Bonnie. Oda adesso ha due strade. O saltare gli eventi di God Valley mostrandoci direttamente la fuga di Orso, o comunque come Orso è divenuto libero, oppure dirci tutto, proprio tutto. E se dicesse tutto, semplicemente moriamo, perché tanta ma tanta roba. Quanto accaduto tra Rox, Garp e Roger deve per forza di cose essere avvenuto in quell'esatto momento, mentre i draghi celesti sono lì. Mi spiego meglio. Ci viene detto che Roger e Garp si sono uniti per proteggere i draghi celesti. Se God Valley fosse stata un'isola a essi legata, come teorizzavamo prima, allora lo scontro sarebbe potuto avvenire in qualsiasi momento. Ma c'è stato appena detto che non è così. I draghi celesti sono andati lì momentaneamente. Quindi il fattaccio deve accadere ora. Non venite a dirmi sì, ma viene detto che quell'isola diventa governativa. Governativa non vuol dire che ci vivono i draghi celesti. Semplicemente vuol dire che, come altre isole, passa sotto il governo mondiale. I draghi celesti, dopo il torneo, tornano a Mary Joyce. Probabilmente Rox ha saputo del gioco e ha attaccato l'isola mentre i dei erano lì. Ed è stato furbo, perché andare a Mary Joyce, scalare la Red Line, è complicato. Quindi ha deciso di attaccare la preda mentre è distratta, mentre è vulnerabile. E il fatto che Garling sia lì può implicare che ci sia tutta la famiglia Figerland. E quindi anche il piccolo Shanks. Se prima consideravamo God Valley una saga importante, ora bisogna dire che è fondamentale per la storia di questo manga. Praticamente quello scontro tra Rox, Garp e Roger ha segnato una svolta nel mondo di One Piece. È il punto di nascita di molte cose accadute in futuro. God Valley è stato un crocevia, un momento di incontro di tanti personaggi. Proviamo a elencare quelli che sono lì e quelli che potrebbero esserci. Figerland e suo figlio Shanks. Probabilmente gli astri di saggezza, perché vediamo Saturn. Rox e Roger che forse arriveranno. Sappiamo che c'è Orso, c'è Ivanko, c'è la piccola Ginny. Dovrebbe esserci Garp. E ve ne dico un'altra. Sapete quanti anni ha Dragon ora nella narrazione attuale? 55. Vuol dire che 38 anni fa ne aveva 17. E se insieme a Garp su quell'isola ci fosse un giovane marine Dragon? Se è quello il momento in cui Dragon si accorge dello schifo del governo e si ribella suo padre e alla marina? E se Ivanko, Vigini e Orso Bartolomeu si salvano proprio grazie all'intervento di Dragon? Ed è lì a God Valley che nasce la loro amicizia? Può succedere davvero un bordello di roba, ragazzi. C'è davvero di tutto. Facciamo un altro passo indietro. Quando vediamo per la prima volta l'incontro tra Shanks e Barbabianca, Newgate dice al Rosso Ogni volta che vedo la tua faccia, la ferita che mi ha fatto quell'uomo fa ancora male. Chi è quell'uomo di cui parla Newgate? Sembra ormai essere scontato che sia Garling Figgerland. Ciò vuol dire che Figgerland ha combattuto contro Barbabianca a God Valley e che molto probabilmente faceva parte dello schieramento di Garp e Roger. Io lo so che avete tantissime domande, tra cui perché Roger si è schierato con Garp? Che motivi aveva? Perché proteggere? FECCIA come i draghi celesti che in quel momento stavano cacciando gli esseri umani. Ragazzi, bisogna pazientare. Se questo flashback dovesse mostrarci l'incontro, lo scontro tra Rox e Roger, sicuramente avremo le nostre risposte. Bisogna capire anche che tipo di personaggio è Rox. Perché magari i draghi celesti sono FECCIA. Chissà. Forse Rox è ancora più FECCIA e quindi Roger ha scelto il male minore. O c'è qualche altro motivo che non conosciamo? Aspettiamo e sapremo tutto. Ci sono ancora delle questioni da affrontare. Quando Bonnie viene alzata da Saturn e i Marine stanno lì per spararle, Vegapunk urla. È solo una bambina. Pare ovvio che Oda stia calcando la mano per darci degli indizi sulla vera età di Bonnie. Di cose da dire ce ne sarebbero tantissime. Bonnie sicuramente non ha l'età che dimostra. È più piccola. Ma prima di tutto c'è da capire se è realmente figlia biologica di Orso. Nelle sue vene pare non scorrere il sangue dei bucanieri. Anche perché in questa saga il governo si è mostrato disinteressato a Bonnie. Se avesse anche lei il sangue dei bucanieri probabilmente non l'avrebbero lasciata andare tanto facilmente. Anzi sarebbero interessati a catturarla. Quindi se lei non è una della tribù bucanieri, chi è? Potrebbe essere magari, piuttosto che la figlia, un clone di Ginny. Se così fosse, c'è stato detto che i Seraphine crescono più velocemente. Quindi magari Bonnie non ha altro che 4-5 anni ma ne dimostra 20 e più. C'è un'altra questione. Quando Bonnie ripensa le parole di suo padre, quando si parla di Nika, c'è lei da piccola che dice Ma Nika potrebbe liberare anche me? Che vuol dire questa frase? Perché doveva essere liberata? Era prigioniera? Lo erano entrambi? Quindi ogni frase è un dubbio che nasce. Assurdo. Ma torniamo ai bucanieri. All'inizio del video vi ho parlato del grave crimine che hanno commesso. Vi dico la mia teoria, che credo sia una cosa a cui hanno pensato in molti. Joy Boy era un bucaniere. Dopo la morte di Joy Boy, la razza dei bucanieri è stata perseguitata, torturata, schiavizzata. Sono stati loro a diffondere la leggenda di Nika, che poi è arrivata a tutti gli altri schiavi. Il crimine che hanno commesso potrebbe essere quello di aver fatto parte dello schieramento del Regno Antico o comunque di aver dato i Natali a Joy Boy. In più, il cappello che noi vediamo a Mary Joyce, quello congelato, potrebbe essere il cappello di un bucaniere. Perché era troppo piccolo per essere di un gigante, ma troppo grande per essere di un essere umano. I bucanieri sarebbero perfetti per indossare quel cappello di paia. Quindi magari Joy Boy, ripeto, era un bucaniere e quel cappello apparteneva a lui. Altra questione. Quando vediamo God Valley, alle spalle del Drago Celeste che sta per annunciare l'inizio dei giochi, vediamo degli scrigni. Potrebbero essere i premi del gioco. E cosa c'è all'interno? La soluzione più semplice, ma anche quella più possibile secondo me, è che ci siano dei frutti del diavolo. E forse alcuni personaggi che sono intervenuti a God Valley hanno mangiato il loro frutto del diavolo, proprio prendendolo dagli scrigni. C'è poi una piccola questione che riguarda Saturn. Sì, l'ho visto anch'io in quella vignetta che sembra essere vecchio come lo è nel presente. Ora, capisco che quell'immagine, quella vignetta, possa far nascere teorie riguardo la sua immortalità. Però ricordiamoci anche una cosa. In One Piece abbiamo visto un personaggio molto vecchio come Corea, che ha 140 anni. Se ha una persona di 140 anni, togli 38 anni, ne ha comunque 102. E quindi il suo aspetto sarebbe quello di una persona anziana. Vi sto dicendo questo perché magari Saturn è semplicemente molto vecchio. Chissà, forse nella narrazione attuale ha 120 anni, se gliene togli 38, a God Valley ne aveva 82. Sempre anziano resta e quindi è normale che l'aspetto sia quello. Comunque, ragazzi, credo che sia praticamente tutto o quasi. Questo capitolo apre a tantissime riflessioni. Speriamo soltanto che il nostro caro Ichiro Sensei ci mostri tutto il flashback di God Valley perché abbiamo una voglia matta di scoprire che cosa sia accaduto in quello scontro. Io intanto vi saluto, vi ringrazio per essere arrivati, se ce l'avete fatta, fino alla fine. E vi ricordo, come sempre, che per sostenere questo canale potete mettere un mi piace, iscrivervi, condividerlo, abbonarvi, commentarlo, commentate, dite la vostra qui sotto. I commenti sono importantissimi, ok? Ci vediamo alla prossima e, come sempre, ma quanto cazzo è bello One Piece? Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Ciao.